Un inizio di stagione con il vento in faccia per il Bari, quattro vittorie e tre pareggi nelle prime sette giornate e l'aggancio in vetta a Regina e Brescia, proprio grazie al 6-2 rifilato nell'ultimo turno alla compagine Lombarda. E quando nelle prime sette partite c'è quello zero nella casella delle sconfitte, i biancorossi hanno sempre centrato il salto in Serie A, sorride Mignani, allenatore all'esordio in B che l'anno scorso ha centrato la promozione dalla C, guadagnandosi il rinnovo fino al 2024. Quest'anno è partito più forte di Antonio Conte, il Bari targato Mignani infatti ha due punti in più rispetto alla stagione 2008-2009. Un dato gonfiato anche dai gol di Walid Khedira, capocannoniere della squadra con 12 centri tra campionato e Coppa Italia. Per l'ottava giornata di B intanto il Bari si prepara alla trasferta di Venezia con fischio di inizio domani alle 14. Al Penso ci sarà una Maria Biancorossa a spingere Antenucci e compagni, più di 2.000 i tifosi attisi in Veneto. La squadra guidata da Ivan Javorcic, artefice della storica promozione in B dell'anno scorso con il Sud Tirol, cercherà di svestire i panni di vittima sacrificale. Otto sono i punti raccolti fino a questo momento dal Venezia in campionato. Pocchi se parliamo di una squadra appena retrocessa dalla A, ma il poker rifilato al Cagliari alla ripresa del campionato ha riacceso la fiammella dei Lagunari. Tuttavia le statistiche parlano di un Javorcic ancora imbattuto e addirittura vincente negli unici due precedenti contro i Biancorossi, l'ultimo nella Supercoppa di Serie C dello scorso maggio alla guida proprio del Sud Tirol. Grazie. Grazie.